Ciao Manuel, Federico Rosa, hashtag Sicilia e gol Sicilia. Volevo chiederti quanto vale questo ritorno al gol per te, tra l'altro al Massimino, anche proprio mentalmente, perché sappiamo che per un attaccante è importante il gol. Certo, vale tantissimo perché è arrivato in una partita importante in casa, la squadra ha vinto, quindi è fondamentale per me aver segnato. Ciao Manuel, Leonardo Zermola, Sicilia.it, a tua uscita dal campo abbiamo visto tanti applausi e tanto incoraggiamento. Volevo chiederti come valuti un pubblico così caldo in una partita infrasettimanale di 10.000 persone, quanto è importante per voi? È devastante per noi, posso dire che forse mi sono abituato, però non ti abitui mai. Per ragazzi che non hanno mai giocato in una piazza del genere, perché credo sia spettacolare, le ringraziamo, ma sono sempre stati con noi, fin da quando sono qua, il sostegno della piazza è sempre stato al primo posto. Prego. Ciao Manuel, Enrico Salvaggio per calciolatania.com, tu sei uno dei reddici della scorsa stagione, sono cambiate tante cose da un punto di vista tattico, due stili differenti di gioco, in cui anche tu devi inquadrarti in maniera differente. Da questo punto di vista, che lavoro state facendo per quanto riguarda le caratteristiche che hai da inserire all'interno dei meccanismi del mister? Sì, guarda, hai detto benissimo, un esamina totalmente differente dall'anno scorso, è un gioco totalmente diverso, quindi ci vuole tempo per cercare di inserire tutti i meccanismi in maniera perfetta, diciamo. Siamo tanti ragazzi nuovi, con un allenatore completamente nuovo, che ha idee completamente diverse da tanti. Stiamo cercando di migliorare negli ultimi 20-30 metri le scelte dei passaggi finali. Credo che col tempo e col lavoro andrà sempre meglio. Sì, solo sapere, primo gol in stagione, che sensazioni ti porti dentro? Una soddisfazione, una gioia, una liberazione per questo primo gol in stagione? Sì, ripeto, sono contento perché è arrivato in una partita importante, era un derby, quindi la città, la piazza meritava una vittoria, sono contento veramente di aver segnato, però tra qualche giorno ce n'è subito un altro, quindi dobbiamo subito lavorare per domenica. Grazie. Grazie. Grazie.